C'è un settore che meglio di altri ha resistito alla grave crisi che ha colpito in questi anni il comparto artigiano in Sardegna e quello della moda che nell'isola può contare su 1.106 imprese con una forza lavoro di 2.000 addetti e quanto emerge da una ricerca condotta dalla Confartigianato Imprese Sardegna sul sistema moda che comprende aziende che confezionano articoli di abbigliamento, calzature e accessori, nella tessitura, nella realizzazione di gioielli, bigiotteria, complementi d'arredo e occhialeria. Dall'indagine dal titolo artigianato del sistema moda della Sardegna emerge che nel 2015 il saldo negativo è stato di sole 6 imprese artigiane, meno 0,7% contro il meno 2,2% di tutto il comparto. Secondo la Confartigianato il settore in Sardegna ha grosse capacità di crescita perché il 17% delle imprese sono costituite da giovani con titolari sotto i 35 anni. Quanto alla sua divisione provinciale, 365 si trovano in quella di Cagliari, 165 in quella di Nuoro, 289 in quella di Sassari e 59 in quella di Oristano. L'export ha generato nel 2015 un giro d'affari di 20 milioni di euro con una crescita del 2,6% rispetto al 2014. La Sardegna è la culla dell'alta moda italiana e il segreto del suo successo, ha sottolineato in una nota Maria Carmela Folchetti, presidente dell'associazione, ma questo è un settore che nell'isola necessita di maggiori attenzioni, considerato l'enorme potenziale di sviluppo e crescita. Due punti cardine per un concreto sviluppo, la formazione degli addetti e l'internazionalizzazione.